È stato consegnato questa mattina, di fronte alla filiale della Banca di Credito Cooperativo in via Faentina, il sale scale trasportabile previsto dal progetto Addio Barriere, promosso da Hauser e finanziato dalla Banca di Credito Cooperativo Ravennate e Imolese, che permetterà agli anziani e ai disabili di superare le barriere delle proprie abitazioni con l'aiuto dei volontari. Il progetto fa parte della campagna Adotta un progetto sociale, diventa un'azienda solidale avviato dall'amministrazione comunale di Ravenna. Qual è l'importanza di questo progetto? Dare un aiuto alle persone che abitano in appartamenti privi di ascensore. Sono ancora tantissima Ravenna gli appartamenti al secondo, terzo, anche quarto piano, privi di ascensore. E questi anziani soli sono costretti a vivere chiusi in casa, isolati dal contesto sociale. Con questo strumento siamo in grado di prelevare la persona e portarla ai vari presidi, a partire da quelli sanitari fino a soddisfare anche altre esigenze. Questo saliscale è autonomo, è sufficiente accompagnarlo, un volontario per poter seguire, accompagnare l'anziano o il disabile, per salire e scendere le scale. È facilissimo da usare e siamo riusciti anche a venirne in possesso grazie alla collaborazione di privati, in particolare della BGG, che è stata sensibile a questo progetto e ha ritenuto di farsi carico del pagamento dell'ausilio, dell'attrezzo. Noi destiniamo una parte degli utili ad interventi di beneficenza e sponsorizzazione di società, di iniziative, quindi rientra nei compiti istituzionali della banca. Noi siamo una banca locale che opera nel territorio della provincia di Ravenna e nel comprensorio di Imola, quindi riteniamo opportuno come banca locale di aderire ai progetti che intervengono sul sociale e sulle necessità del territorio, quindi questo progetto che ha promosso il Comune di Ravenna assieme all'Auser ci ha interessato perché è rivolto al servizio della persona.